Lo ringrazio per consueto impegno, la passione che ci mette per portare avanti questo progetto, lo ritengo un progetto complessivo, di parte da lontano, che taglia abbastanza trasversalmente diverse esperienze della cultura, come lo fa Emilio, lo ha riportato bene, lo fa tutto un ambiente di questo paese, lo si fa attraverso l'esperienza del teatro di Gioia, della scuola della maturgia, lo si fa attraverso gli scritti numeri dei personaggi di Gioia e lo si fa alla fine dando un contributo reale, effettivo, rendendo quello che diceva prima per qui, un sogno, una realtà completa. Oggi e poi più che mai mi piace pensare che questa realtà diventa ancora più solida e più interessante, proprio con l'istituzione del progetto nazionale, che è un contributo vero di questa società alla cultura che è patrimonio di un popolo e è patrimonio del mondo. Quindi grazie a Gioia che riesce ad esprimere in maniera concreta, reale e in maniera anche forte questo contributo. E quindi grazie a Patrizio, grazie e grazie a tutti.